pesaro città cantiere anche nel sociale via libera agli oltre 3 milioni dal pnrr terminati lavori su strada delle foglie da stasera viabilità ripristinata successo per la settimana di valle foglia capitale oltre 4.000 presenze al nuovo teatro la saponaria dedica una linea di cosmetici biologici a pesaro 2024 torna alter art festival a pergola sei mesi di interessanti iniziative una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi martedì 30 gennaio che apriamo parlando di lavori pubblici pesaro città cantiere anche delle sociale questa mattina infatti la giunta comunale ha dato il via libera agli oltre 3 milioni di euro di interventi finanziati dalle pnrr per gli ambiti sociali del territorio e progettati dalle comune di pesaro che lente capofila per migliorare la quantità e la qualità della vita delle famiglie del territorio cantieri appunto per oltre 3 milioni di euro come ce ne parla l'assessore alla solidarietà luca pandolfi proseguono i lavori del pnrr sociale e oggi abbiamo approvato un altro documento in giunta e sono lavori per più di 3 milioni di euro di cui un milione otto di lavori edili quindi riqualificazioni di strutture e si va dal diciamo il sostegno ai senza fissa dimora con l'housing first e i progetti dell'housing first e della stazione di posta un progetto molto importante da un milione di euro e che già partito nella progettazione e adesso proseguirà con i lavori e ci sono lavori sul dopo di noi quindi l'autonomia di persone con disabilità per 750 mila euro che già attivo e prosegue e diciamo che è già strutturato e a buon punto il progetto PIPI che è il progetto di sostegno alla genitorialità di 30 famiglie che verranno sostenute con un progetto integrato fra educatori scuola e assistenti sociali per sostenere le famiglie più fragili i progetti sono tanti c'è ci sono progetti anche di dimissioni protette di persone che escono da un percorso ospedaliero e vengono sostenute in casa con dei servizi come la mensa e servizi di assistenza e il telesoccorso e sono lavori da 330 mila euro progetti da 330 mila euro e anche questi sono partiti e riguarderanno 110 famiglie del nostro territorio quindi siamo in pieno dei lavori del PNRR dove diciamo c'è tutto il comune impegnato e l'amministrazione comunale con i dirigenti dei lavori pubblici del sociale perché ovviamente riguarda più servizi e diciamo che sul sociale gli investimenti vanno a rinforzare o creare progetti nuovi su temi importanti che sono pure dell'estrema povertà dove noi siamo molto importante impegnati come comune ma anche con tutti i progetti di autonomia di persone con disabilità dove noi lavoriamo da anni su queste tematiche e vengono rafforzati con l'apertura di altri due appartamenti per 12 persone e poi la famiglia e la terza età le dimissioni protette noi siamo con i progetti come il centro per le famiglie piuttosto che Pippi che è già un progetto che noi sperimentavamo sul territorio ed era all'avanguardia allora viene rafforzato con questi 200 mila euro di investimenti del PNRR quindi noi proseguiamo a dare dei servizi che sono dei servizi per migliorare la qualità della vita. E sono terminati i lavori alle ponte di Strada delle Foglie a Borgo Santa Maria e da questa sera la viabilità sarà ripristinata. Lo hanno annunciato il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alle fare Riccardo Pozzi che questa mattina hanno effettuato un sopralluogo in quello che è uno dei tratti più frequentati della città. Quasi cinque mesi di lavoro per una mole di investimenti di 450 mila euro derivanti dalle PNRR. I fondi hanno permesso di riqualificare e migliorare la viabilità e soprattutto mettere in sicurezza un collegamento strategico percorso ogni giorno da migliaia di lavoratori. Il progetto di rigenerazione ha previsto la messa in opera di nuove barriere per garantire la sicurezza in caso di fuoriuscita di un veicolo, il rifacimento dei giunti stradali e dell'asfalto. E Pesero 2024 ha fatto il suo avvio da Capitale Tegnale della Cultura partendo da Vallefoglia che la scorsa settimana ha fatto da capofila ai 50 comuni della provincia che durante tutto questo anno verranno mano a mano coinvolti. Una settimana che ha avuto un bilancio più che positivo con le tante serate che si sono tenute nelle nuovissime auditorium Giovanni Santi di Bottega e che hanno registrato oltre 4 mila presenze. Siamo molto orgogliosi perché insomma sono passate quasi 4 mila persone in una settimana il Presidente della Repubblica, il Ministro della Cultura, il Presidente della Regione, la provincia, i sindaci veramente e poi tutte le sere pieno, 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 pieno seppo di gente quindi un grazie al Sindaco di Pesero che ci ha aiutato sia per la presenza di Mattarella ma anche per metterci alla prova per la prima settimana perché era molto anche rischioso perché se non c'era tutta tanta gente tutte le sere con una forte diversificazione anche degli spettacoli in questa settimana. Il teatro è una prova enorme, è un teatro di 336 posti che si aggiunge al Teatro Branca di 150 posti a Sant'Angelo in Listo quindi questa città oggi ha due teatri e quindi la settimana della cultura per noi è stata davvero straordinaria grazie a Pesero, alla collaborazione al Sindaco Matteo Ricci. L'abbinamento anche con l'inaugurazione del Teatro Santi a Vallefoglia sempre con il Presidente Mattarella ha aggiunto un valore in più perché ha aggiunto il valore di un investimento importantissimo che Vallefoglia ha fatto, un teatro molto bello, molto funzionale che si inserisce dentro la rete dei teatri provinciali e regionali e ci consentirà di essere più attrattivi anche rispetto agli eventi che vorremmo organizzare nei prossimi anni. Del resto il nostro obiettivo è quello di valorizzare il territorio, Vallefoglia sapevamo che partire con Vallefoglia sarebbe stato un successo assicurato, non a caso è stata una settimana di eventi stracolmi di persone, a dimostrazione che quando c'è un comune lungimirante come Vallefoglia che investe in cultura la gente risponde e questo sarà anche un grande viatico per il futuro perché l'obiettivo della capitale della cultura è cambiare i prossimi dieci anni, abbiamo fatto già parlare di Pesero nelle prime settimane della provincia di Pesurubino tantissimo e questo avrà un effetto sicuramente positivo non tanto nei prossimi mesi ma soprattutto nei prossimi anni. È andata molto bene nel senso che sono stati realizzati sette spettacoli, uno ogni sera e tutte le sere c'è stato il pieno, la gente ha risposto, i cittadini di Vallefoglia e di tutto il comprensorio hanno risposto a queste proposte culturali, sono state delle proposte differenziate nel senso che abbiamo avuto della musica lirica, sinfonica, abbiamo avuto del jazz, abbiamo avuto un coro, una banda, una compagnia dialettale. Quindi la diversificazione delle proposte sicuramente ha favorito l'affluenza delle persone, è stata molto numerosa e molto interessata, devo dire, il pubblico ha aggredito il tipo di proposta e soprattutto secondo me è stato anche attirato molto dalla novità della struttura, il fatto che fosse un nuovo teatro e quindi erano, diciamo, interessati e mi permetto di dire orgogliosi di avere nel territorio un nuovo teatro. E a proposito proprio di Pesaro 2024, questa mattina presso la sede della Saponari è stata presentata la nuova linea di cosmetici biologici che l'azienda ha dedicato per celebrare l'anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Per Pesaro Capitale della Cultura abbiamo pensato una linea caratterizzata da ingredienti che valorizzassero il nostro territorio. Sono tutti ingredienti naturali che raccontano una storia e che raccontano la bellezza dei nostri luoghi. Abbiamo scelto per ogni prodotto un ingrediente caratterizzante, abbiamo scelto la ginestra che racconta la bellezza delle nostre colline, abbiamo scelto l'uva rossa ottenuta da una collaborazione con l'azienda Terra Cruda di Pergola, un ingrediente fenomenale nei cosmetici, richiede antiossidanti e proprietà sia per la pelle che per i capelli. Abbiamo scelto l'olio extravergine di oliva di cartoceto e il guado. Il guado è un'erba tintoria tipica del Monte Feltro che è stata usata da secoli per tingere tessuti, dipinti, che quindi affonda proprio le radici nella storia dei nostri territori. Quindi sono cosmetici che ci raccontano e che valorizzano il bello del nostro territorio. Nasce nel 2007 la saponaria da un'idea di sostenibilità e da un'idea di autoproduzione. Ci piace pensare che i prodotti non nascono sui scaffali dei supermercati ma nascono da una passione, da un'idea di voler fare un qualche cosa di diverso fondamentalmente che non c'era al tempo quando siamo partiti. L'etica del lavoro rispetto della natura sono stati da sempre, da subito, dei valori fondanti della saponaria e in questi 15-16 anni abbiamo sempre mantenuto questi valori come base dei nostri prodotti. Venerdì 2 febbraio a partire dalle 5.30 nel nostro laboratorio faremo un brindisi inaugurale per presentare questi prodotti. Ci sarà la possibilità di provare i cosmetici sulla propria pelle, ci sarà la possibilità di degustare gli ingredienti con cui sono fatti, il vino, l'olio e di fare un brindisi insieme. Ci sarà anche la possibilità di vedere dove nascono questi prodotti con una visita guidata al nostro laboratorio, quindi siete tutti invitati a questo momento celebrativo. I prodotti Pesaro Cultura 2024 sono disponibili nel nostro spazio aziendale qui alla saponaria presso la chiusa di Ginestreto di Pesaro, sono disponibili sul nostro sito internet, la saponaria.it, dove troverete pubblicata anche la lista di tutti i punti vendita di Pesaro e italiani dove è disponibile la linea. Ed ora lo spazio è dedicato alle vostre segnalazioni che come di consueto vi invito ad inviarci alle numero di WhatsApp 370-366-7210. Queste foto che ci arrivano da un nostro telespettatore sottolineano come in via Panaro a Catabrighe ci sono bene tre querce che non sono mai state potate nonostante le varie sollecitazioni effettuate. Come si può notare dalle masini, i rami e i tronchi rappresentano un grave pericolo visto che con le forti raffiche di vento e le piogge dell'ultimo periodo il rischio di caduta è molto elevato. Un pericolo che può essere facilmente evitato con una potatura come richiesto dai cittadini della zona. E venerdì 2 febbraio prosegue con Triple Bill, tre coreografie di Marco Cantalupo e Catarina Gdaniec, Noa Zucca e Sharon Friedman per Naturalis Labor, la stagione capitale di danza al teatro Rossini di Pesaro. Il programma della serata si apre con Ona, in polacco lei, coreografia per quattro danzatrici, Jessica D'Angelo, Vittoria Franchina, Alice Rizia e Lisa Spina, che passa dall'armonia alla rivolta e rivela la libertà, il potere e l'inventiva delle donne. Take 2 invece è una creazione per Alice Rizia e Andrea Rizio di Noa Zucca, coreografa israeliana che porta l'impronta di anni di lavoro con la prestigiosa compagnia Batsheva. Sharon Friedman invece, coreografo israeliano in Asta Quando, conclude la serata ed esplora le relazioni d'amore attraverso una modalità compositiva che genera molteplici sensazioni, affidando la danza a Raffaele Candela, Jessica D'Angelo, Vittoria Franchina, Giuseppe Morello, Mirko Paparusso e Andrea Rizzo. E continuiamo sempre a parlare di spettacolo perché sabato 3 febbraio Playlist e Pesaro rassegna che torna nella capitale italiana della cultura per la decima edizione fino a mazzo su iniziativa delle comune di Pesaro e di Amat, ospita al Teatro Rossini Balanescu Quartette, un ensamble nato in Romania dall'idea della violinista Alexander Balanescu. La formazione ricrea il classico quartetto d'archi con un'idea originale, quella di adattare la forma tradizionale della formazione, ad un repertorio il più possibile ampio e variegato per avvicinare la musica classica alla contemporaneità. Biglietti con posto unico numerato a partire da 10 a 20 euro. Informazioni prevenite presso il Teatro Rossini, le biglietterie del circuito Amat e Viva Ticket e anche online. L'inizio del concerto sarà alle ore 21. E dalle 1 febbraio la distribuzione dei farmaci per le terapie erogate ai pazienti cronici sulle territorie di Fano, verrà trasferita dalle punte eroganti di via Tazzoli Quinici, l'ex ospedale pediatrico, alla farmacia interna dell'ospedale Santa Croce, nelle padiglioni B4 alle piano interrato, con la finalità di centralizzare in un punto unico di distribuzione tutti i farmaci erogati in dimissione, posti visita specialistica e acronici sulle territorie. Il direttore di Aste, Pesor Rubino Nadiastorti, ha ribadito come in questo modo diventa tale l'obiettivo di potenziare il sistema della distribuzione diretta dei farmaci nell'ottica del miglioramento del servizio per renderlo più vicino alle esigenze dell'utenza e offrire una migliore accessibilità alle strutture con notevole beneficio per il paziente. E saranno sei mesi ricchi di iniziative quelli che caratterizzeranno l'edizione 2024 di Alter Art Festival. Danza, teatro, musica, arti visive e welfare ambientale la fa una da padrone in un programma ricco ed interessante. Si comincia il 3 febbraio, vediamo. Alter Art Festival 2024, un festival nel territorio, quello di Pergola in cui Confcommercio crede da tanti anni. Pergola è una delle località nella provincia di Pesor Rubino, nelle Marche, in cui noi siamo impegnati da molti anni per la promozione e lo sviluppo economico legato alla valorizzazione del bello, alla valorizzazione della bellezza. Tante eccellenze che oggi vedono anche in questo festival che si sviluppa in diversi mesi, incominciamo dal 3 febbraio fino ad arrivare a luglio, un festival multidisciplinare che metterà Pergola al centro dell'attenzione e anche della comunicazione, non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, visto che questo festival, questa manifestazione che è stata finanziata dall'Unione Europea coinvolge diversi paesi e diverse regioni in Italia. È un festival multidisciplinare di arte performativa, danza, teatro e anche arti visive e quest'anno abbiamo focalizzato molto su quello che è il welfare ambientale. È un festival che nasce con l'idea di sostenere la rete di quelle organizzazioni che sul territorio, che è un territorio interno legato ad aree rurali e ad aree montane della regione Marche, hanno un impatto molto importante per quello che riguarda la sostenibilità ambientale ma anche progetti di inclusione sociale. Crediamo fermamente che l'espressione artistica, il contenitore artistico di un festival possa sicuramente creare momenti di scambio, di dialogo ma anche di un punto di riferimento per quei giovani che sul territorio durante l'anno vivono. Circa tre anni fa con mio marito e nostra figlia ci siamo trasferiti nel comune di Cagli da Bolzano e mio marito dalla Turchia e siamo entusiasti e ci sentiamo a casa qua e valorizzare questo territorio è una cosa importantissima per noi. Tre anni fa abbiamo fondato la fattoria naturale Shizen che è una fattoria dove si pratica l'agricoltura naturale. Questa agricoltura naturale è un metodo del non fare e ridona fertilità al suolo anziché distruggere la fertilità del suolo che con tante pratiche moderne purtroppo è in aumento. Ci sono cinque pilastri per questo tipo di agricoltura che sono non arare, non potare, non disturbare, niente uso di pesticidi e di fertilizzanti chimici. Mediante questi metodi o questi non metodi noi pratichiamo l'agricoltura in sintonia con la natura. E nelle fine settimana appena trascorso è stata inaugurata la nuova sede dell'Associazione Culturale Amici della Ceramica di Pesaro, una struttura che trova posto nei locali comunali a Tigui, alla Chiesa della Beata Vergine e delle Carmine, in il corso 11 settembre. Uno spazio che verrà utilizzato anche per incontri, conferenze, mostre e corsi di ceramica per bambini e adulti, rientrando così di fatto nel circuito degli eventi di Pesaro, capitale italiana della cultura. L'Associazione Culturale Amici della Ceramica di Pesaro ha finalmente una casa. Sabato 27 alle 17, il Comune di Pesaro, nella persona dell'assessore alla bellezza Daniele Vimini, ha consegnato al Presidente dell'Associazione Nirko Bravi le chiavi del locale sito in corso 11 settembre 225. Siamo felici di questa opportunità oggi di avere creato gli spazi per una nuova sede dell'Associazione di Amici della Ceramica, una realtà molto importante a Pesaro perché garantisce la continuità della passione e anche della professionalità dell'arte ceramica tra amatori, artisti, figure che si ritrovano durante l'anno per portare avanti la tradizione e soprattutto tramandarla anche ai più giovani. C'era bisogno di nuovi spazi, dopo la chiusura della sede recente e originaria, un passaggio breve a Casa Rossini, ma c'era bisogno di uno spazio dedicato per i laboratori, per le mostre, per le esposizioni, per poter ricordare la gente e soprattutto poterlo fare in un luogo del centro visitato e visitabile. Questo gesto rappresenta una grande opportunità per tutti gli amanti dell'arte che desiderano approfondire il tema della ceramica. Finalmente oggi inauguriamo la nuova sede dell'Associazione Amici della Ceramica di Pesaro e ringrazio sentitamente il Comune di Pesaro nella persona dell'assessore bellezza Daniele Vimini. Finalmente hanno concesso a noi questi locali del Comune dove noi potremo quindi avviare le nostre iniziative di mostre, conferenze, convegni e anche e soprattutto quest'anno che è l'anno della cultura Pesaro 2024, anche nuovi corsi per dei bambini e oltre alla presenza dei nostri maestri ceramisti e dei nostri soci. L'occasione è stata propizia per la presentazione del calendario 2024, con il quale l'Associazione quest'anno ha posto l'attenzione alle ceramiche Liberty Molaroni. I soggetti zoomorfi e fitomorfi descritti nel calendario si intonano in pieno con la tematica natura e cultura scelta per l'anno in cui Pesaro è capitale della cultura. E con quest'ultimo servizio termina la cacca quest'edizione di Rossini News. Prima però di lasciare le televisioni delle mete andiamo a vedere quale sarà la programmazione per questa sera. Si comincia alle 21.20 con Amministrando, verso le elezioni 2024, ospiti del nostro Antonio Astuti qua in studio, Camilla Murgia, assessora alla gentilezza e alla crescita delle Comune di Pesaro e del Partito Democratico e Lisetta Sperindei, del gruppo misto di minoranza di Pesaro. Vi ricordiamo appuntamento questa sera alle 21.20 e le repliche che potete vedere in grafica. E poi come di consueto torniamo in diretta domani mattina alle ore 7.20 con la nostra rassegna stampa, la nostra direttrice Emanuela Rossi vi farà compagnia anche in diretta sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra app e sul nostro sito, le repliche alle ore 8.20, 12.20, 14.20 e 18.20. Ed è davvero tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.